Seconda vittoria in campionato per il Casarano che resta imbattuto contro il Fasano che deve rinviare il primo appuntamento con la vittoria. Al Capozza i padroni di casa si impongono per due rete a zero contro la squadra di Catalano. I gol tutti nel primo tempo. Fischio d'inizio e i ragazzi di Feola trovano subito il vantaggio al settimo grazie al gran gol di Rodriguez che mette la palla in rete da posizione defilatissima. Casarano che mette subito le cose in chiaro al quattordicesimo protagonista ancora lo stesso attaccante di casa a difesa del Fasano che salva pochi passi dalla linea. Al ventunesimo Tascone sfiora soltanto un passaggio precisionaria di Rodriguez. Al ventiseiesimo sale in cattedra e lo nazi destro facile per Suma che blocca. Al trentaduesimo la prima occasionissima del Fasano con Nadarevic solo davanti a Guido. Pareggio divorato e conclusione sul fondo. Dopo lo spavento il Casarano torna subito in avanti al quarantunesimo. Giacomarro si mette in proprio e calcia forte e tanto basta per trovare il raddoppio. Due a zero al Capozza partita in discesa per il padroni di casa. Nella ripresa il Fasano prova a reagire al passivo. Al sesto Trovè mette alla prova i riflessi di Guido che alza sopra la traversa. Al tredicesimo Tascone servito bene in aria spara troppo alto. Al ventitresimo ospiti che ci riprovano con la conclusione di Procida che esce al lato da ottima posizione. Al venticinquesimo Giacomarro sfiora il palo e la doppietta personale. Casarano ancora avanti al trentasettesimo con la conclusione velenosa di Sansone. Suma respinge nel recupero finale ultimo squillo del Fasano con Cavaliere che calcia da fuori sfera di poco alto sulla traversa. Triplice fischio e vittoria del Casarano che sale a quota sette punti in classifica. Un buon Fasano deve rimandare all'appuntamento con i tre punti.